L'archivio di Stato è salvo, almeno per altri tre anni, missione romana per il sindaco Elena Pavan e l'ex direttore della struttura Giovanni Marcadella, che accompagnati dall'onorevole Germano Rachella si sono recati presso il Ministero per i beni e le attività culturali per dire, ancora una volta, che l'archivio di Stato non si tocca. Per lungo tempo noi di Rete Veneta ci siamo battuti e alla fine con successo per salvare l'archivio bassanese, scrigno di documenti che raccontano la nostra città. Un patrimonio che non poteva e non può lasciare Bassano. È un patrimonio che i cittadini non vogliono perdere. Un altro tassello della nostra storia che va conservato a tutti i costi. Direzione Generale Archivi aveva provato a ridurre ad un solo anno il rinnovo della Convenzione mentre siamo riusciti a farla rinnovare per altri tre. E anche volevano distogliere delle risorse di personale e quindi non sarebbe più stata garantita l'apertura dell'archivio di Stato mentre siamo riusciti a far sì che il personale impiegato rimanga resti nel nostro territorio. E intanto il sindaco conferma il progetto della nuova sede dell'archivio di Stato all'interno di un'ala della scuola elementare Mazzini.